Salve a tutti, sono Mattia, per l'amiche più intime, Matti Oski, e sono qui quest'oggi per vedere l'ultimo trailer di Man of Steel, il nuovo film su Superman, diretto da Zack Snyder, prodotto da Christopher Nolan e bla bla bla, cercate le informazioni su internet, brutti scansa fatiche! Ascolti da un'ultima, Mattia, è un'ultima. Ma che un'ultima, a chiunque. Ma che un'ultima, a chiunque. Ma che un'ultima, pensare a tornare un'occhiata, che aveva intitolato. Ma se un figlio rispia a qualcosa di più grande? Il mio figlio è stato in il bus. L'ho visto quello che Clark ha fatto. Tu sei la risposta, figlio. Tu sei la risposta a noi soli in l'universo. Posso solo portare che sia il tuo figlio? Tu sei il mio figlio. E devo credere che sei stato stato sentito per una risposta. E anche se lo prendete il resto della tua vita, ti puoi dirvi a te stesso per capire che quella risposta è. Come trovi qualcuno che ha spento un'esercizio coveringlo? Per alcuni, è stato un angelo guardiano. Per altri, è un ghost. Per altri, è un ghost. E' un ghost. E' un ghost. E' un ghost. Paolo. Trovano io. Esiderio. Se av governo prendere qualcosa di più. to reject me he was convinced that the world wasn't ready what do you think what's the S stand for? it's not an S in my world it means hope well here it's an S how about super excuse me Scusate, vado in bagno Direi che ci siamo, direi che è la volta buona Direi che tutti quelli che dicono che Superman è un eroe di merda Si ricrederanno Penso proprio di sì Che dire, aspettiamo il 20 giugno Speriamo che ci sia un anteprima come ci fu per Batman The Dark Knight Rises Così me lo vado a vedere con i miei compagni di merende E posso godere in maniera, direi, notevole Detto questo, fatemi sapere se vi è piaciuto questo esperimento Davvero molto complesso Che consiste nel mostrarvi la mia faccia da pirla Mentre guardo cose epiche Recuperate anche voi il trailer Troverete il link nella descrizione Però prima di guardarlo Tenete a portata di mano un rotolo di cartigenica Perché io durante la visione ho avuto dei chiari scompensi ormonali E non mi rimane altro da fare che salutarvi Con un supereroistico Ciao Ciao